Yes, ci siamo, non comprate cazzate signori, è partito il Prime Day, ma non buttiamo via soldi, io cercherò di aiutarvi in questo video, ho selezionato pochissime offerte tra quelle che più mi interessavano, andandole a controllare su Kipa per vedere lo storico dei prezzi, ma soprattutto vi ho portato prodotti che conosco, brand che apprezzo, cose che secondo me possono essere utili, tutto il resto però lo troverete come sempre sul mio canale Telegram delle offerte, pago meno offerte tech, ma anche su quello della casa, pago meno offerte casa, vi lascio i due link qui sotto in descrizione, ve lo ridico di nuovo, non compriamo cazzate, compriamo solo cose che davvero ci servono, soprattutto se sono convenienti e nell'ottica di questa filosofia, io ho selezionato il primo prodotto che è uno di quei prodotti che ho regalato, anzi ci siamo regalati in famiglia, perché è davvero un robot top di gamma, parlo del Dream X40 Ultra versione complete, che è davvero la Bentley dei robot, aspirapolvere, lava, pavimenti, ha praticamente tutto quello che si possa desiderare, con spazzola estraibile, con mop estraibile, tutto comandato dell'intelligenza artificiale, una potenza di aspirazione esagerata, ben 12.000 PA, che tra un po' vi tirano su anche il parquet, a parte gli scherzi, è un robot che conosco molto molto bene, vedete le immagini perché già l'ho utilizzato parecchie volte, ho fatto anche un video. È un robot fighissimo perché aspira, lava i pavimenti, la torretta è in grado di lavare i mop ad a calda, i mop si possono staccare, quindi con un robot va a fare solo l'aspirazione, lascia i mop direttamente alla torretta e ovviamente c'è anche il sacchetto per la raccolta della polvere. La stessa base è in grado di autopulirsi, di autopulire il vassoio e soprattutto ci sono tutte quelle cose che oramai vogliamo trovare su un robot top di gamma e la tecnologia di rilevamento omni dirt, in grado di rilevare ogni tipo di sporco, ma soprattutto di rilevare anche gli ostacoli, in particolar modo al di là delle solite ciabatte, caletti, insomma quello che si trova, anche eventuali ricordini degli animali domestici che vorremmo evitare che il robot aspiri e porti in giro per tutta la casa. Lui è in grado naturalmente con le sue telecamere e col sensore leader di mappare tutta l'abitazione, ma anche di vedere in tempo reale tutto quello che succede all'interno dell'abitazione. Ma soprattutto c'è uno scontone interessante perché da 1499 euro passa a 1249 euro, ben 250 euro di sconto che secondo me è uno degli sconti più interessanti che possiate trovare, ma non solo, sull'X40 ci sono tutta una serie di prodotti dream in offerta, c'è ad esempio l'L10, c'è l'L20, insomma c'è tutta una serie di prodotti, io faccio così, vi lascio il link di questo robot e poi vi lascio il link della pagina Dreamy così vi potete andare a vedere tutti i prodotti che sono in offerta per il Prime Day. Apple lo sappiamo non aderisce volentieri a questo tipo di promozioni ma qualcosa c'è sempre in questo caso, in particolar modo ci sono tanti tanti Apple Watch in offerta, io ho messo l'occhio su un Apple Watch serie 9 con GPS 45 mm alluminio color mezzanotte ma ci sono mille colorazioni, tutte le misure, ci sono Apple Watch anche SE, insomma andatevi a vedere anche in questo caso vi lascerò entrambi i link sia quello al prodotto che a tutti gli altri prodotti ma ovviamente li troverete anche sul mio canale Telegram e in questo caso si passa da 399 euro a 375, sì è vero è uscito Apple Watch 10, però insomma se si vuole risparmiare qualcosetta con l'Apple Watch 9 non è che cambi proprio tantissimo e potrebbe essere sicuramente un'occasione. Ah e qui abbiamo un smartphone che mi piace molto dal punto di vista del design, mi piace molto anche perché costa molto molto poco, purtroppo non sono riuscito a provarlo ma chissà che magari non me lo acquisti proprio in questa occasione, parlo del CMF Phone One nella versione 828 in questa bella colorazione arancione che da 239 euro passa a 199 che se non erro era il prezzo di lancio limitatissimo per i primi giorni poi è salito adesso in occasione del Prime Day torna di nuovo giù controllato nello storico ed è comunque il minor prezzo che ci sia mai stato su questo prodotto meno di 200 euro direi che non è niente niente male e ogni video di questo genere io vi porto sempre un televisore LG e vi porto sempre un televisore OLED perché so che molti di voi aspettano proprio questi momenti per regalarsi o regalare un nuovo televisore. In questo caso io ho addocchiato l'LG OLED EVO 55 serie C4 già del 2024, ovviamente parliamo di una TV con tutto quello che ci deve essere in una televisione del 2024 e quindi Smart TV, processore aggiornatissimo, Alexa, il Dolby Vision e tutta una serie di caratteristiche che non starò certo qui ad elencarvi, è un televisore straconosciuto dal punto di vista delle qualità e del design che arriva in offerta a 1299 euro, prezzone assoluto su questo 55 pollici che come vi dicevo è assolutamente aggiornatissimo perché è l'ultimo modello disponibile. Ma anche in questo caso LG non ha solo questo televisore, a diversi altri prodotti in offerta, televisori più grandi più piccoli, anche in questo caso vi lascio il link a tutta la selezione di prodotti LG così potete andare a spulciare tranquillamente tutte le offerte. E poi c'è lui, il Samsung S24, sua maestà ultra, davvero un gran signor smartphone, un top di gamma assoluto, col pennino è in offerta a un prezzo interessante perché parliamo della versione addirittura da un terabyte, versione titanium black che passa da 1599 a 1499 ma c'è l'offerta fino al 13 ottobre che vi dà il diritto a 300 euro di cashback e quindi andiamo a 1199 euro, assolutamente a quel prezzo, signori miei è da prendere al 100%, consiglio mio anche se lo sapete io utilizzo iPhone ma è davvero validissimo. E poi ce l'hai la Insta360 X4, una action cam 360 gradi che arriva in risoluzione fino a 8K ed è un prodotto davvero eccezionale per fare riprese particolari a 360 gradi con una prospettiva sempre su tutto quello che ci circonda. Questa è l'ultimissima versione, ho controllato, non è mai andata in sconto, quindi non è mai andata sotto i 559 euro di listino tranne oggi che arriva a 529 euro acquistandola appunto su Amazon nella versione stand alone, ovviamente ci sono tutti i vari accessori, sempre link in descrizione, questa se la desideravate è l'occasione più giusta per comprarla almeno prima ovviamente del Black Friday. Oh e quanto sono fighissime le Notting Gear, ha queste cuffiette Bluetooth con cancellazione attiva del rumore appunto di Notting che fa del design sicuramente il suo punto di forza, guardate che bello questo cuffanetto soprattutto nella colorazione gialla, sfiziosissima, già di loro sono degli auricolari che costano molto poco secondo me per quello che offrono, sia a livello di integrazione, che di design, che di qualità, ma passano da 97,35 euro a 72,99 euro. E poi c'è lei, ho deciso di selezionare anche una macchina del caffè ma non una qualsiasi, una dei longhi che è il brand che io ho a casa mia, non precisamente questo modello ma comunque una macchina sempre automatica in chicchi che conosco molto bene con la possibilità anche di montare il latte e quindi fare cappuccini e già di suo secondo me ha un buon prezzo perché parliamo di 330 euro ma in questo caso scende a 2,69 quindi se l'acquistate mi raccomando ogni volta che berrete un caffè ricordatevi di me. E mi chiedete sempre dove prendo le mie tastiere, di solito le compro su Amazon, mi piacciono le tastiere un po' particolari e mi piacciono quelle di Epo Maker, ne ha tante a listino ma quella che è in offerta quest'anno in diverse colorazioni è la X Aula F75 Gasket, una tastiera meccanica al 75% wireless, Bluetooth ma anche con USB-C e manopola nonché ovviamente retroilluminazione RGB, è una tastiera di un brand che mi piace, che fa buone tastiere a ottimo prezzo e il prezzo è ancora migliore in questo caso, qui ho io ho messo la versione blu ma ci sono altre colorazioni, passa da 99,99 a 74,99. E poi c'è Ugreen, Ugreen ha credo una delle selezioni più ampie di sconti e allora anche in questo caso io vi metterò il link alla loro pagina così potete trovare di tutto perché Ugreen ha una marea di prodotti lo sapete, me ne ho portati un sacco qui sul canale, in questo caso però ho voluto selezionare un prodotto che conosco molto bene ed è il MacFlow caricatore wireless ed è una stazione di ricarica due in uno per l'iPhone e le AirPods. Rimanendo nel campo dei televisori questa è un'azienda che io conosco molto bene, vi porto sempre un video dedicato almeno uno all'anno perché è il rapporto qualità prezzo migliore secondo me per quello che riguarda appunto i televisori, in questo caso vi ho tirato fuori una chicca direi ottima ed è un iSense 65 pollici, UHD 4K, c'è un mio video sul canale quindi eventualmente andatevelo a vedere, il prezzo è già come dicevo ottimo di partenza 549 euro ma in questo caso 499 che per un 65 pollici direi che è un prezzo assolutamente eccezionale. Sempre di Ugreen vi ho selezionato un power bank magnetico da 5000 milliampere con power delivery 15 watt che da 39,99 passa a 19,99 quindi direi quasi metà prezzo. E se vi ricordate questo estate vi ho portato un video sulle mie videocamere di sorveglianza che ho messo a casa mia, sono tutte EasyWiz ed è per questo che abbiamo qui una selezione di prodotti, io ho selezionato questa che è una motorizzata wifi da esterno 3K con copertura 360 gradi che di solito costano veramente tantissimo, EasyWiz è già un brand molto competitivo lato prezzo, di listino 89 euro in questo caso 64,99 che è davvero un prezzo favoloso. Come per Ugreen anche per Anker la selezione di prodotti in offerta è piuttosto ampia, anche in quel caso vi lascio la pagina dell'azienda ma ho selezionato un caricatore USB-C l'Anker Prime 250 watt, è un prodotto di altissimo livello con tanto di display LCD, 6 porte e addirittura erogazione regolabile con la manopola, purtroppo non sono riuscito a provarlo, ho tutti gli altri prodotti Prime ma credo proprio che me lo acquisterò perché da 159,99 passa a 135,99 però come vi dicevo c'è tutta una serie di prodotti anche molto molto più economici sempre di Anker che vi lascio qui sotto in descrizione. E per ultime ho lasciato queste sfiziosissime cuffie, le Beats Studio 3, ci sono in due diverse colorazioni e il prezzo l'ho controllato personalmente perché anche lì è un prodotto Apple quindi non è facile sempre trovare gli sconti ma in questo caso lo sconto è molto molto interessante perché già di partenza vengono intorno ai 199 euro, non è un prodotto nuovissimo ma è sempre secondo me validissimo ma poi super super integrato con l'ecosistema Apple, poi possono piacere o meno sappiamo che hanno un timbro marcato sui bassi però la buona notizia è che ci sono ben 30 euro di sconto e quindi da 199 passano a ben 169 euro. E qui si conclude il video con le migliori offerte che ho selezionato per voi per questo video ma tutte le altre ve lo ripeto le troverete sul canale telegram delle offerte e le offerte ci sono anche sul mio sito dei wallpaper abbiamo messo un 60 per cento di sconto su tutto quindi se volevate scaricare qualche wallpaper come quelli che utilizzo io sul mio iPhone beh vi lascio il link in descrizione. Ve lo ripeto non comprate cose inutili comprate consapevolmente comprate solo cose che vi servono e soprattutto non fatevi abbagliare dagli sconti facili. Io vi ringrazio se questo video vi è piaciuto lasciate un like commentate ditemi se avete comprato qualcosa se siete poveri e non comprate nulla se siete il chi avete già tutto scrivetemi qui sotto nei commenti grazie da Manuel Agostini e noi ci vediamo per un prossimo video sempre qui sul mio canale YouTube Grazie. Grazie.